Da una parte il comune dell'Aquila taglia le utenze ai condomini morosi degli appartamenti possismici del progetto case, dall'altra però è esso stesso ad essere moroso, perché non sta pagando le rate mensili della transazione con la banca sistema istruita per rientrare dal debito maturato con ELEL a seguito del mancato pagamento proprio dell'utenza del progetto case. A denunciarlo sono i consiglieri comunali di Noi con Salvini, Emanuele Imprudente, Luigi Deramo e Daniele Ferella, che chiedono la convocazione urgente della Commissione Consigliare e programmazione bilancio. Per far luce su una vicenda spiegano che potrebbe avere risvolti devastanti nei confronti dei conti economici già trapallanti del comune e del patrimonio comunale. Ho fatto una richiesta urgentissima di prima Commissione Consigliare quella programmazione bilancio e ho sentito anche del Presidente Giustino Masciocco che si è impegnato a convocarla all'inizio della prossima settimana. Sarebbe veramente grave se l'amministrazione ha bloccato questi pagamenti perché ci sarebbero delle conseguenze veramente devastanti. Quali sarebbero le conseguenze contabili? Innanzitutto ci sarebbero nuovi debiti fuori bilancio. C'è la possibilità che Banca Sistema, proprio perché è stata una forma di accordo scellerato, potrebbe richiedere l'intera somma immediatamente. C'è poi dall'altro lato un depaperamento del patrimonio dei progetti case che sappiamo benissimo tutti quanti perché non si fanno interventi di manutenzione vera o di sistemazione vera e quindi è una vicenda questa dei progetti case che come avevamo anticipato ormai da anni e come stiamo dicendo tutti i giorni da anni è una vicenda che potrebbe portare al dissesto dell'amministrazione.